Il nome della colline missione Moia è The Name, perché tutti i vestiti, oltre a riportare i disegni, riportano anche la scritta Moia. Mi sembra che finalmente siamo riusciti a riaprire come comune, sarà, penso da adesso in avanti, un luogo da sfruttare alla grande. Il nome della colline di Moia è The Name, perché tutti i vestiti, oltre a riportare un grande applauso a tutte le ragazze, alla sinistra Lara Tuarto che la accompagna.